La società biellese del tessile Tollegno 1900 S.P.A. ha annunciato la cessione della propria divisione filati al colosso thailandese della petrolchimica, Indorama Ventures Public Company, e la conseguente costituzione di una nuova società, chiamata Filatura Tollegno 1900, con il 100% del capitale di proprietà. L'operazione, il cui perfezionamento è stimato entro il primo semestre di quest'anno, e i cui contorni economici non sono stati rivelati, non interessa però il lanificio di Tollegno, con la divisione tessuti e il suo prodotto di punta 3D Wool, che rimarrà indipendente e manterrà uno stretto rapporto di fornitura con la Nuke. L'accordo siglato tra le due società che continueranno ad operare in modo indipendente nella gestione dei rispettivi clienti, prevede anche l'acquisizione dell'impianto di tintoria a Tollegno e di quelli di filatura, tintoria e trattamento della lana in Polonia, unitamente al brand per aguglieria lana gatto e agli uffici commerciali negli Stati Uniti, in Giappone e a Hong Kong. La decisione di cedere la divisione filati ad un partner solido come Indorama Ventures nasce dalla volontà di potenziare ulteriormente le nostre performance, così da risultare ancora più competitivi sul mercato globale. È quanto spiegano dalla società biellese, che per questo motivo considera la transazione un significativo passo in avanti per lo sviluppo dell'azienda, che pur mantenendo la storicità del proprio marchio e il forte legame con il territorio, si apre a nuove progettualità in chiave internazionale. Ma non solo. Il gruppo tailandese, che oltretutto è già presente nell'area biellese, avendo acquisito altre realtà locali del segmento dei filati, anticipa anche nuove assunzioni destinate alla sede di Tollegno, dove verranno inglobate alcune delle attività che fanno capo a Indorama Ventures.